E' in stallo lo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi dai sindacati sul futuro di alcuni lavoratori della Teramo Ambiente dopo l'incontro di questa mattina in prefettura. All'ordine del giorno, oltre ai contestati inquadramenti contrattuali di alcuni dipendenti, c'è stata la nuova organizzazione del lavoro aziendale. Presente, tra gli altri, il sindaco di Teramo, Marizio Brucchi, che ha ribadito che l'obiettivo fondamentale resta la riduzione dei costi. Stamattina i problemi posti all'ordine dei sindacati mi hanno un po' sorpreso, perché si voleva parlare di livelli, di inquadramenti. Sono rimasto un po' sorpreso inizialmente, poi ho visto che l'ordine ha preso un'altra piega, come giusto che sia. Si è parlato anche di questa modifica di alcuni orari che prevedono meno lavoro di notte e più di giorno. I sindacati non erano d'accordo, però insomma, io direi che gli aspetti fondamentali sono questi, quelli che ho detto al prefetto questa mattina. A, bisogna ridurre il costo del porta a porta. Se la riduzione del costo del porta a porta passa attraverso meno lavoro notturno e più diurno, ben venga il lavoro diurno. Bisogna ridurre i costi fissi della Teramo Ambiente e questo si sta facendo. Lo devono fare tutti, tutti devono stare dalla stessa parte, questo è dipendente. L'ho detto, chi non capisce questo non capisce che la Teramo è in un momento di difficoltà. La gara che stiamo impostando, la gara a doppio oggetto, prevede una riduzione dei costi, una riduzione del porta a porta, perché dobbiamo ridurre la tariffa, l'abbiamo già ridotta del 20% lo scorso anno, la dobbiamo ridurre ancora quest'anno e così negli anni futuri. Questi sono i temi importanti. Poi se la Team arriva a questi obiettivi, attraverso un lavoro diurno, un lavoro notturno, attraverso una raccolta che dura 5 giorni piuttosto che 6 giorni, se qualche giorno di festivo non si lavora, io credo che questo cambi poco, se si unisce la plastica e il barattolame, cambi poco. Ripeto, quello che oggi i cittadini non riescono più a affrontare sono i costi e quelli vanno ridotti. Ho chiesto anche ai sindacati per una volta di stare tutti dalla stessa parte. La barca deve camminare, se la barca imbarca c'è qualcuno che remi in un senso e qualcuno che è in un altro, la barca non cammina. Intanto un ulteriore incontro tra le RSU e i vertici della Teramo Ambiente è previsto per lunedì prossimo.